Salve, questo è il mio carro armato, in pratica è un carro armato però l'arma non è, infatti è un'elica che ci dirà con delle ruote sopra e la si mette qui, è telecomandato e lo si accende da qua, vedete? E da qui si fa accendere l'elica Bene! E in pratica contro questa roba qui, questa rocca, vediamo che non è che succedono molte cose strane, sono delle cose distrutte eccetera. Grazie!